we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oramai siamo davvero agli sgoccioli sono giorni che sentiamo rumori davvero incredibili durante le nostre partite di fortnite e siamo pronti finalmente all'unico ma enorme evento che arriverà nelle prossime ore in questa season numero 8 pronti anche però all'ultima settimana con le sfide della settimana numero 10 che ci regaleranno l'ultimo standardo per noi nel video di oggi però ragazzi voglio approfondire un attimo l'evento del vulcano mostrandovi anche un gameplay incredibile che ci chiarisce di molto le idee su quello che succederà e su quello che il vulcano farà realmente vedremo anche delle cose a sponde del saccheggio molto molto interessanti parleremo anche della nuova modalità party quella che è arrivata inaspettatamente poche ore fa vi spiegherò due cose molto interessanti e finalmente anche due parole sulle sfide overtime le vedremo nel dettaglio capiremo un attimino quando ci saranno come funzioneranno e ovviamente i regali che ci daranno voglio però prima ringraziare tutti voi ragazzi che utilizzate il mio codice creator xioderone grazie mille per supportare di brutto il canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la domandina raga la domandina ve la devo fare perché ci tengo tantissimo vedete vedete che mi metto i cuoricini ragazzi non so cosa ho detto prima vi metto i cuoricini perché li leggo i commenti mi piace leggerli e la domanda di oggi dai vien da sé ragazzi forse l'avete già intuita ma l'hai scioppazzato l'inferno pack oppure no e dai so curioso di sapere quanti di voi hanno scioppazzato il nuovo pack inferno finalmente disponibile per tutti al prezzo di 19 euro e 99 ma quindi ciancio le bande e banda le ciance due parole le spendiamo su questo pack perché ancora non lo sapesse nello shop di fortnite non quello dei v bucks ma proprio il negozio quello dove si acquistano con i cash i v bucks è disponibile l'ultimo pack della season numero 8 inferno pack 19,99 come vi anticipavo il prezzo ma la cosa molto interessante è che ci vengono ridati mille v bucks quindi se facciamo due conti 9,99 alla fine è il prezzo reale molto interessante anche che con le sfide connesse a questa skin che non sono altro che le nostre sfide giornaliere otterremo anche la skin esclusiva e il piccone quindi ragazzi un pensierino io fossi in voi ce lo farei la skin ci sta sono dell'idea però di una cosa secondo me la testa infuocata è un chiaro messaggio per i nemici che dice sparami in faccia secondo me non lo so devo capire un attimo perché mi sono preso due headshot in game con sta skin che un po mi hanno fatto puzzare vedremo un pochettino se qualcuno la pensa come me lo scriva qua sotto nei commenti ma andiamo avanti i ragazzi ed eccola invece finalmente intanto la vediamo in game bellissima è veramente dai c'è un po dell'iron man dai adesso non mi dite che la faccia non è un po dell'iron man a parte che gli va a fuoco il cervello ma stiamo parlando in realtà di una cosa molto più importante della runa numero 5 apparsa finalmente a sponde del saccheggio ultimo tassello mancante del puzzle di questo strano aggeggio che oramai ci accompagna da parecchi giorni e che devo dire è arrivato al suo pieno completamento questi suoni che abbiamo sentito in questi giorni ci fanno presagire che prestissimo andrà ad attivarsi anche il quinto portale e molto probabilmente si aprirà quel portellone davanti centrale in realtà come avete visto con tante porte che lo vanno appunto a chiudere e chissà chissà che cosa ne uscirà ragazzi intanto lo vediamo anche qua il portellone di cui vi parlavo è proprio quello lì centrale meravigliosa questa inquadratura e chissà come cambierà ragazzi sponde del saccheggio ma dovremo aspettarci anche secondo me un notevole cambiamento della mappa anche nella season 9 volevo farvi vedere come vi anticipavo ragazzi qualcosa di incredibile relativo al vulcano siamo in questo gameplay ve lo faccio vedere di un ragazzo che con un glitch riesce a rimanere in aria molti sono riusciti a fare questa cosa in realtà e la cosa incredibile appunto che sia la parte del vulcano che la parte di picco polare rimangono illuminate nonostante tutto il resto della mappa sia totalmente nero questo ci fa ipotizzare che potrebbe aspettate prima di andare avanti a farvi vedere questo che è meraviglioso che potrebbero essere due zone calde di modifica della season 9 si parla dello scioglimento anzi abbiamo visto che succederà sicuramente al ghiacciaio qualche cosa probabilmente l'altra modifica è l'eruzione del vulcano e sapete che con l'evento butterfly 2 rinominato così succederà questo ragazzi i giocatori non moriranno guardate questa onda d'urto che dovrebbe essere appunto l'effetto in game dell'eruzione dei meteoriti infuocati scagliati dalla bocca del vulcano tutti i giocatori dovrebbero essere proprio nella posizione di questo giocatore quindi molto al di fuori della mappa e non subiranno appunto i danni nel vedere queste esplosioni che probabilmente modificheranno la conformazione della mappa così come noi la conosciamo staremo davvero a vedere quello che ci dovrà capitare ma andiamo avanti ed eccola qua un'altra delle cose importantissime già lo sapete per quanto riguarda l'evento la scelta di uno di questi oggetti che dovrà tornare in game rampino bouncer spada infinity blade drum gun la thompson aeroplani o mitraglietta tattica ne abbiamo già parlato curioso anche che finalmente tutti i monitor a sponde del saccheggio sono diventati sono accesi sono funzionanti ognuno mostra un oggetto che vi ho appena menzionato si tratta davvero di ore ragazzi si tratta davvero di pochissime ore prima del nuovo evento che non vedo l'ora davvero di vivere spero insieme a voi se sarò in live ma andiamo avanti parlando dai non potevo non farvi vedere queste immagini ragazzi la nuova modalità party che sarebbe formazione delle squadre fighissima soprattutto per chi come me sempre in live gioca con gli abbonati impossibile da gestire quando tutti gli altri 15 sono dei pazzi scatenati che urlano come se fossero rincorsi da non so che cosa ma la figata è che si può giocare da adesso in 16 amici contemporaneamente nelle diverse modalità a squad in rissa a squadre in creativa e qualcuno diceva anche nella modalità ltm infiniti e buonanotte infiniti end game tanta roba basta semplicemente ragazzi aprire la vostra lobby se avete tanti amici e lasciar gioinnare la gente che quindi si sposterà in quattro diversi squadroni una figata davvero incredibile lo devo ammettere chiudo ragazzi con questa figata di cui non vi avevo anticipato se non nel titolo sta arrivando ad alcuni giocatori una mail di epigames la riceverete da fortnite experts chiocciola epigames.com è un invito a partecipare a un programma beta dedicato a dei giocatori a random potreste essere anche voi dove degli esperti di fortnite vi faranno delle domande ovviamente nella vostra lingua quindi non avete paura se non conoscete l'inglese se risponderete correttamente alle domande vi daranno cash ragazzi si vincono soldi io non ho capito bene se sarà in game nel senso vi accettano e troverete nella lobby magari un membro del team di epigames che vi proporrà appunto questo quiz perché è ancora in fase beta ma è una notizia ufficiale rilasciata da epigames probabilmente ne sapremo di più nella season 9 e quindi ragazzi non cestinate se vedete nelle cartelle controllate lo spam fortnite expert chiocciola epigames.com io ragazzi per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle 8 8 e mezza in live ciao